Al Bosaggia, accerchiati, picchiati e rapinati. Era una banda. Morvegno, il prof schiaffeggia uno studente. Disturbi alimentari, la manotesa di Ada. Associazione Amazoni dona sollievo ai pazienti oncologici. Il racconto degli eroi che trascendono lo sport. Un convegno by night sulle plusvalenze immobiliari. Valbregaglia Trail, spettacolo World Cup. Benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Telesondrio News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Vediamo la prima notizia di oggi. Hanno agito in stile baby gang, a scopo di rapina. Hanno accerchiato le vittime, due ragazzi di 19 e 24 anni e hanno costretto sotto la minaccia di un coltello uno di essi a prelevare al Bancomat e farsi dare 500 euro. Erano almeno 10, tutti stranieri. È successo domenica alle 5 di mattina al porto di Al Bosaggia. Sara Valdini. Le indagini dei carabinieri sono in corso e sulla vicenda della quale tuttavia si vocifera già da giorni, vige il più stretto riservo. I soccorsi sono intervenuti ad Al Bosaggia, località Porto, poco dopo le 5 di domenica mattina. Feriti in modo serio, ma non in pericolo di vita, due ragazzi di soli 19 e 24 anni. Non si è trattato però di uno dei tanti litigi che scoppiano sui piazzali delle discoteche a fine serata, spesso tra persone alterate da alcol e sostanze e per futilissimi motivi. Stavolta sarebbe un episodio che a Sondrio mai si era verificato in precedenza. Un accerchiamento nel perfetto stile delle baby gang a scopo di rapina da parte di una decina di individui sembrerebbe tutti stranieri. A un certo punto, di fronte alla reazione di uno dei due giovani posti sotto assedio che ha tentato di difendersi e al dinego dell'altro di recarsi al banco, ma adducendo la scusa di non ricordarsi il pin da digitare per prelevare, è spuntato anche un coltello. E lì non soltanto il ragazzo non ha potuto che recarsi, scortato allo sportello, ma è stato anche costretto a consegnare 500 euro a chi lo stava minacciando. Come detto, sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto e rintracciare gli autori. Pare si tratti di una banda proveniente dalla Bassa Valle che già nel pomeriggio di sabato aveva infastidito dei ragazzi in centro Sondrio, per poi proseguire in zona stazione e finire la serata dal Bosaggia, dove appunto, prima dell'alba di domenica, si è verificato l'inquietante episodio. Sconcertante episodio stamane in un'aula dell'Istituto Saraceno Romeggialli di Morbegno. Qui un docente ha schiaffeggiato un alunno e lo ha spintonato facendolo cadere all'indietro tra i banchi. Il ragazzo, che è già maggiorenne, denuncerà l'insegnante che con ogni probabilità, con il gesto di oggi, non farà più neppure rientro a scuola. Vediamo il servizio. Una volta si chiamavano note sul registro. Ora che il registro è elettronico, per metterle nero su bianco basta digitare su uno smartphone. Così stamane era intenzionato a fare nei confronti dell'intera classe un professore in una quarta del professionale Saraceno Romeggialli di Morbegno, quando uno studente, per fargli cambiare idea, ha tentato di toglierglielo di mano. L'insegnante, un 37enne di Benevento in servizio dello scorso primo ottobre, per tutta risposta ha sferrato uno schiaffo in pieno volto al ragazzo, per poi proseguire spintonandolo e facendolo cadere all'indietro tra i banchi, mentre attorno il clima tra i compagni si faceva a dir poco incandescente. Un fatto gravissimo, in primis perché ha per protagonista un adulto per il quale sono stati chiamati in piazza Aldomoro, dove ha sede la scuola, carabinieri ed è intervenuta un'ambulanza. Avevo bisogno di un ingegnere meccanico, non se ne trovano, ho fatto un interpello e hanno risposto da tutta Italia soltanto in tre, spiega il dirigente dell'istituto Antonino Costa. Così è arrivato a scuola questo professore che però, sin dai primi giorni, ha mostrato di non sapere insegnare e di avere degli evidenti problemi di comunicazione. Se i ragazzi sentono di avere di fronte qualcuno non competente nella propria materia o comunque poco autorevole, se ne approfittano. Ma mai mi sarei aspettato un simile gesto nei confronti di un ragazzo. Ragazzo, peraltro, già maggiorenne e che dunque spoggerà direttamente denuncia nei confronti dell'insegnante che lo ha aggredito. Il meteo ha fatto slittare da sabato 19 a sabato 26 la camminata terrazzamente in rosa by night, da Castione Andevenno a Poggi Ridenti. L'iniziativa è stata pensata per fare conoscere l'attività di Iada, l'associazione disturbi alimentari nate in provincia una decina di anni fa. Vediamo il servizio. Un po' meno impegnativa dell'atterrazzamenti in rosa da Morbegno a Sondrio di due domeniche fa, ma ugualmente importante per la finalità. È la camminata a terrazzamenti in rosa by night, in programma per sabato 19, ma rimandata al 26 a causa del meteo, che partirà comunque alle 17 da Castione e arriverà verso le 21 a Poggi Ridenti. L'iniziativa nel mese rosa della prevenzione è dedicata a fare conoscere l'esistenza e l'attività di Iada, l'associazione disturbi alimentari nata in provincia una decina di anni fa. La nostra associazione, che è nata da un gruppo di genitori che hanno avuto dei figli con queste problematiche, ha lo scopo di informare e indirizzare le famiglie con queste problematiche verso quello che è il nostro punto di riferimento della provincia, che è il centro dell'ospedale di Sondrio. Si dice, ed è una grande verità, che quando un figlio si ammala di anoressia si ammala tutta la famiglia. Destabilizza non poco l'ambiente familiare, anche perché ci si trova a dover affrontare una problematica sconosciuta e qui anche il fatto di poter confrontarsi con chi questo problema l'ha già affrontato e fortunatamente in tanti casi l'ha risolto, aiuta sicuramente. L'associazione Ada ha un numero, il 338 1877 885, cui ci si può rivolgere nel più assoluto anonimato. Una volta alla settimana è presente anche nello spazio dedicato alle associazioni dell'ospedale di Sondrio, ma è consigliabile contattare prima telefonicamente. Da oggi il reparto di oncologia di Sondrio ha un impianto di condizionamento che donerà sollievo ai pazienti nei caldi mesi estivi. Una donazione dell'associazione Amazzoni che da anni si occupa del sostegno e del benessere delle pazienti oncologiche. Vediamo il servizio. Oggi al reparto oncologico dell'ospedale di Sondrio si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'impianto di condizionamento donato dall'associazione Amazzoni. È un impianto che ha permesso alle persone purtroppo che hanno un periodo di diegenza in questo ospedale di poter godere di un clima più appropriato, soprattutto in momenti come quello delle scate scorsa, dove effettivamente le temperature sono state elevate. Un ringraziamento molto forte va all'associazione Amazzoni, alla loro presidentessa, la dottoressa Osmetti e a tutti i volontari che rendono possibile la raccolta di questi fondi che sono molto importanti per i nostri ospedali di valle. L'associazione Amazzoni nasce nel 2008 a Tirano e oggi ha sede anche a Morbegno e l'obiettivo è quello di sostenere le donne che incontrano la malattia nel corso della vita, dare un sostegno alle loro famiglie e promuovere la cultura della prevenzione. Negli ultimi anni abbiamo anche raccolto dei fondi che abbiamo utilizzato con altri gruppi all'acquisto della tomosintesi installata all'ospedale di Sondrio, abbiamo contribuito al condizionamento del reparto oncologico di Sondrio e questo perché la filosofia della nostra associazione si rivolta alle donne che hanno un tumore al seno alle loro famiglie, ma in questo caso abbiamo allargato a tutti i pazienti che purtroppo devono passare da questo reparto. Sabato 19 ottobre alle ore 21 al Teatro Vittoria di Ponte in Valtellina andrà in scena Gianfranco Busi con il suo spettacolo L'essenza dei colori. Peter Norman, immobile sul podio con Smith e Carlos con il pugno alzato in segno di protesta, Lutz Long che mise il fazzoletto a terra per aiutare Owens a vincere e molti altri, sono i protagonisti di una narrazione di uomini e donne straordinari. Vediamo il servizio. L'essenza dei colori è lo spettacolo che racconta, parafrasando una celebre pellicola, i momenti di gloria di atleti che hanno contribuito a farsi portatori di valori universali, di pace e tolleranza. Un racconto di virtù, di sport e di vita che, come la luce bianca, da un prisma si irradia nei colori dell'arcobaleno, in un susseguirsi di storie di atleti che hanno oltrepassato il senso dello sport come mera competizione e hanno incarnato i valori che hanno cambiato la società. Roberto Carsalen, gettato il cuore oltre l'ostacolo, taglierà il traguardo con le due costole rotte e la bandiera del peru in mano e ad attendere lo svizzero Dario Cologna che gli vuole rendere omaggio. Yusra, Sara ed un'altra donna lottano contro i frutti del mare con tutte le loro forze nell'affrontare quel mare furioso, arrabbiato, che minaccia di affogarle. Emozione allo stato puro, dove le parole inclusione, determinazione, libertà, fratellanza e speranza sono rappresentate con i colori dei cerchi olimpici. Un racconto di donne e uomini speciali, atleti che hanno cambiato il mondo. Una serata imperdibile al Teatro Vittoria di Ponte, sabato 19 ottobre alle 21. Gianfranco Busi incanterà il pubblico con la narrazione degli eroi sportivi, che sono stati l'epicentro del cambiamento sociale. Ieri sera, in Sala Besta, un convegno dedicato all'importanza di rimanere aggiornati sulle normative e sulle strategie di investimento in un panorama immobiliare in continua evoluzione. Scopriamo i dettagli nel servizio. Ieri a Sondrio, in Sala Besta, si è tenuto un convegno serale organizzato dalla FIAIP, incentrato sul tema delle plusvalenze immobiliari. L'evento ha visto la partecipazione di esperti del settore, agenti immobiliari, architetti, geometri e cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche che influenzano il mercato immobiliare, specialmente in un periodo di continua evoluzione economica e normativa. Siamo soddisfatti, è stata una scommessa quella di provare a fare un incontro di sera, nel momento per raccogliere sia i cittadini che i professionisti della valle, per far conoscere le nuove tematiche, in questo caso un argomento attualissimo che sono le plusvalenze, dove c'era un po' di dubbio da parte di tutti. Quindi con Nicola Mastroianni questa sera ci sta sciogliendo questi dubbi e penso che molti di noi, se non praticamente tutti, andranno a caso con idee molto più chiari. Durante il convegno sono stati analizzati diversi aspetti legati alle plusvalenze, ovvero l'aumento di valore degli immobili nel tempo. Gli esperti hanno messo in evidenza le politiche fiscali, le recenti modifiche legislative e le strategie da adottare per massimizzare i ritorni sugli investimenti immobiliari. Emerso come la conoscenza approfondita delle normative fiscali possa fare la differenza per gli agenti e i proprietari di immobili, soprattutto in contesti di vendita e acquisto. In un ambiente di mercato sempre più competitivo, il convegno ha offerto anche spunti e suggerimenti pratici su come gestire al meglio le transazioni immobiliari, affrontando anche le sfide poste dall'attuale crisi economica e dalle incertezze geopolitiche. I più forti atleti della specialità dei cinque continenti, uno spettacolare fogliage autunnale a fare da sfondo e tanti momenti avvincenti da ricordare. In questo che è stato l'epilogo della Coppa del Mondo della Specialità è il Val Bregaglia Trail, ne parliamo nel prossimo servizio. Tappa conclusiva della Valsir Mountain Running World Cup 2024 lungo il suggestivo percorso del Val Bregaglia Trail. Tra le donne, gara aperta con soli dieci punti a separare Scout Adkin da Joyce Mutoningeru. Nella competizione maschile invece Patrick Kipengeno vince e si conferma campione. Da cartolina le condizioni meteo della giornata a Chiavenna. Nella gara femminile le sorti della competizione si decidono al chilometro 10, quando Mutoningeru prende il comando andando poi a vincere con un tempo di un'ora 47 primi e 45 secondi. Coppa del Mondo Femminile per il 2024 a Scout Adkin. Sono davvero felice che tutto il tempo e gli sforzi mi abbiano portato al coronamento di questo titolo, così tanto desiderato. Altrettanto combattuta la gara maschile. A metà percorso è Kipengeno a schizzare in prima posizione, proprio all'altezza delle cascate dell'acquafraggia. Il traguardo chiavennasco è tutto suo, con un tempo di un'ora 34 primi e 3 secondi. Al ventesimo chilometro ho capito che avrai vinto e sono davvero molto felice di aver raggiunto questo risultato. Sei riuscito a portare sia il campionato italiano che il finale di Coppa del Mondo a Chiavenna e questo per noi è tanto. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSN. Grazie.